Il governo può traballare su tutto, perché questo è un governo che traballa di suo. Il tema è che invece sulla questione della procedura di infrazione, come ho già detto in altre occasioni, io penso che il governo dovrebbe compattamente andare a vedere il blef della Commissione europea. Perché la Commissione europea che minaccia la procedura di infrazione è stata ampiamente sfiduciata, però la manovra con la quale il governo si è presentato lo scorso anno francamente non aiutava rispetto alla situazione italiana. Credo che il governo dovrebbe andare in Europa a proporre all'Unione europea una prossima manovra fatta di shock fiscale e investimenti pubblici, chiedendo di spendere i soldi in deficit per fare qualcosa che possa creare ricchezza. Se l'Europa dice di no vuol dire che è in mala fede, se dice di sì vuol dire che è in buona fede.